Ciao sono GioN95 e ci siamo su Clash Royale Allora premessa prima di andare avanti perché ve la devo visto che non si sente l'audio di gioco Non si sente l'audio di gioco perché praticamente l'applicazione di registrazione non mi permette di registrare l'audio di gioco senza premessa dei creatori dell'applicazione E non so come chiederla quindi fatemi sapere cosa dovrei fare per attivare il volume del gioco E nel frattempo andiamo avanti eviterete il video senza audio perché non capisco come registrarlo Non lo so mi dice che devo chiedere la tutelazione ma io che ne so io come si fa non sono mica esperto di queste cose Cioè non sono neanche scarso però vabbè va così purtroppo è così Allora vabbè adesso vedete che ho 2520 gemme risparmiate con fatica senza doverle utilizzare per le emote Cosa che facevo prima solo che adesso visto che sono usciti i campioni devo utilizzare le gemme per aprire i bauli in cui posso trovare dei campioni E quindi ho ottenuto 2520 gemme per prendere quel baule là da 2500 Ma prima di aprire quello noi apriremo innanzitutto prima gli altri bauli Cioè quello gigante e quelli speciali prenderemo 1000 di oro da qua 1000 di oro La stagione di agosto un tuffo nel passato Ok come si fa tornare in fuori qua Ok Ehm Va bene Poi abbiamo le sfide qua che vabbè usciranno fra 4 giorni e 21 ore E siamo nella nuova stagione di Clash Royale quindi Va bene Se ci andiamo avanti Ehm Direi che apriamo prima Le ricompense che ci sono qua Ok Ok Cercherò di parlare in modo da occupare l'audio di gioco con il mio audio Ehm Va bene così abbiamo preso la ricompensa Prima di andare aprire i bauli andiamo a fare una partita Vediamo se sta registrando Si sta registrando Almeno Almeno l'audio di mio lo sentite Perché almeno quello Se no Non avrebbe senso registrare un video Allora battaglia Facciamo battaglia Ho il deck ammazzato Ehm A parte per la regina Che la regina è un campione Quindi non si può Allora Golem Ah vai di Valkyria Ok Mi dispiace che non sentiate l'audio di gioco Però io lo sento Valkyria Potrei usare il cacciatore Potrei 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 usare il cacciatore Un'elettrice guerriera Così mi cura Il cacciatore Ok è morto Ah il drago infernale Infernale E vabbè E vabbè Vai E vabbè Colpisce la torre Fai la secca con la torre Ecco un po' di dolore Gli abbiamo fatto Ecco La veleno Però io ho fatto danno a due le torre Quindi Quindi non è male Non è affatto male Tanto pochi vi frega dell'audio di gioco Tanto non serve Ci sono io che Che parlo E vi intrattengo Io adesso butterei Il golem Tanto devo buttare Valkyria Così non Non me la tira addosso Qua E se lo butterei Il drago infernale Sicuro E bucarmi il golem Perché è l'unica cosa Che può usare Per fermarmi il golem Io aspetto Perché voglio Che lo butti Il drago infernale Ah il gran cavaliere Al 14 E vabbè Allora E vado il drago elettrico Vai drago elettrico Vai vai Fagli danno Ok Abbiamo bucato la torre Ora siamo in vantaggio Andiamo di sgherri qua Strega Valkyria C'è Adomatore E il gran cavaliere Incredibile Andiamo di golem Tanto il gran cavaliere Ve l'ha fermato Perché non ce la fa Il gran cavaliere Andiamo di cacciatore Per difendere la torre Non gioca più Non gioca più Ah no Gioca Gioca Andiamo di Drago elettrico Vai drago elettrico Vai Buttagli giù la torre Mi rispeccia davvero tanto Che non sentite L'avvio di gioco Però Non riesco Quindi dovete Dirmelo voi Se voi mi aiutate Io riesco Andare avanti E portarvi I contenuti Come devo portarveli Perché Io ci provo E Solo che Non riesco A registrare L'audio di gioco Che Mi è impossibile Perché non 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 me lo fa Registrare Non posso dirvelo Non riesco A registrarlo Perché Il programma Di registrazione Non mi riesce Cioè Non mi vuole Far registrare L'audio Senza L'autorizzazione Del creatore Dell'applicazione Dell'applicazione Del gioco Del gioco Che sto registrando E Non so come chiederla Cioè Anche se la chiedo Come faccio A fare in modo Che Di riferirlo A loro Che ho l'autorizzazione Per poter registrare L'audio E questo È un grande problema Una cosa incredibile Quanto sto registrando 7 minuti Ok Allora Direi che Adesso apriamo Il baule gigante No Il primo è il baule Delle clan Ok Il baule Delle clan 1470 162 Gobbi lancieri 42 Scaricucci Ormai Sono quasi potenziabili 5 pecca E La Domatrice Di riti Ok Va bene Ok Vai Nuova 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 battaglia Mettiamo Il nostro Deck Di difesa Chiudi Ok Vediamo Iniziano Lo sapevo Che l'avresti Detto LOL No Non capisco Ma va bene Lo stesso Ah Possiamo potenziare La carta Fammi potenziare La carta Che sono I I Scheletri Ah Il barrile paparico È salito su Ecco perché Ok Ok Prossimo Guardie Devo portare A 12 35.000 Quindi costa Un pochino Qui ci sono Le carte Potenziate Per questa stagione E Bello Bello Va bene Ok E prima di andare Ad aprire I prossimi Bauli Direi di fare Un'altra partita Così facciamo Due partite E Andiamo Ok Vediamo Vediamo Come gioca Il nostro avversario Ah Domatici D'Arieti E beh E beh Allora Andiamo di strega Anche se Cacciatore Secondo me La facevo Meglio Fulmine Andiamo Di cacciatore Mini pecca Beh Io vado Di Di Scherri Scusando Di scherri Al 14 Perché Ce l'ho 14 Solo per Quello Se no Non userei Gli scherri E' Una D'ultima Carte Che ho portato Al massimo Le carte Che ho al massimo Praticamente Le sto utilizzando Perché Essendo molto potenziate Mi sono utili Andiamo Di golem Allora Vediamo Domatici D'Arieti Domatici D'Arieti Ok Io andrei Di Guarditrice Guerriera E Valkyria Perché Ho paura Della sua Fulmine Perché Se mi trancia Tutto Con la Fulmine Non andiamo Bene Cacciatore Ho buttato La Valkyria Vabbè Non fa danno La Valkyria Guarditrice Guerriera Cioè fa danno Ma sicura Quindi Ok Abbiamo Abbiamo sbalagliato La sua difesa Vai vai Fagli del gran male Vinciamo noi Questa Incredibile Ok Mi dispensa davvero Che non siete L'audio di gioco E ormai Già 3 o 4 volte Che ve lo ripeto Ma Purtroppo Non riesco a registrarlo Vai vai Butta giù la torre Butta giù la torre Ok Abbiamo vinto Eh va bene Va bene Eh vabbè Allora Se vinciamo Vinciamo Non ci posso dire Ok Possiamo ora Aprire il baule Della corona Ok 1282 di ora 3 gemme Vedi le gemme Le conservo in questo modo Cerco di farmarle In questo modo Perché Non c'è altro modo E ormai I giochi È diventato Pay to win Quindi non si può fare niente Allora Sunset e Goblin Specchio 14 goblin C'è il botaniere Ok Adesso abbiamo Il baule gigante 3.389 Una Tornado 26 lapidi 296 Arcelli Pirotecnici E 48 goblin C'è il botaniere Ancora Va bene Vediamo quanto stiamo Registrando Sì Sono a posto E ora Come ultimo baule Per concludere Il video In bellezza Perché ho fatto Anche due vittorie Apriamo Questo baule Del re Leggendario Che ci dà la certezza Di trovare Un campione Di livello re 14 E una Leggendaria Quindi Niente Apriamolo Contiene Giolli garantiti Ok 4.600 Di oro 70 Giolli Ok 19 Giolli Rari 6 Giolli Epici Un Giolli Leggendario Direi Prendiamo Prendiamo I Magliari Royale Il Goine Delle Gemini Fa schifo Come Carta Anche se La vedo Molto Utilizzata In Vari Deck E qui Prendiamo La La Consegna Royale Che fa Più Danno Ok Qui Prendiamo Potrei Prendere Il Megaschierro Perché Ce ne sono Meno Però La Tonio Infannale Potrei Andarla Quasi A Averla Potenziabile Però Preferisco Il Megaschierro Sinceramente Anche se Tanto Poi Potentare Tutto Quindi Non cambia Niente 8 8 Scheletro Gigante Ok 17 Io Farei Io Farei 17 Barili Barili Ok Che non Mi cambia Niente Una Carta All' Altra Però Vabbè Leggendaria Ah Tra i Due Il Mastino È Ovvio E Il Campione Possiamo Anche Scegliere Il Campione Scheletro Gigante E Regina Io direi Regina Così arriva 6 Su 8 E Me ne Mancano Due E poi Posso Portarla Al 13 Almeno Abbiamo La Regina Che Può Essere Livellato 13 Va Bene Quello Che Vi Dove Vedere Ve L'ho Fatto Vedere A Parte Dei Bauri Ho Fatto Delle Vittorie Quindi Spero Che Questo Video Vi Sia Piaciuto In Vi Trocè Un Like Un Commento Per Dammi La Vostra Opinione Iscrivete Canale Se Nuovi Con Di Di Giro Vittane Crescere E Noi Ci Vediamo Un Prossimo Video A Presto